Un'importante iniziativa di carattere sanitario organizzato dalla Fondazione Carifano insieme all'Ordine Provinciale dei Medici della provincia di Pesaro Urbino nelle scuole. Una iniziativa di carattere preventivo particolarmente utile visti i risultati che si sono ottenuti. Questa iniziativa è nata per la sensibilità che ha la Fondazione nei confronti delle giovani generazioni. Abbiamo sentito con il Presidente dell'Ordine dei Medici e dei Ontoiatri della nostra provincia di Pesaro, che peraltro è un consigliere della Fondazione, e avevamo intenzione di fare un'attività di prevenzione, uno screening e poi l'attenzione è ricaduta su uno screening oculistico che è stato fatto a favore dei bambini di età molto precoce, di 4-5 anni, quindi i bambini delle scuole materne, perché questo tipo di screening per evidenziare eventuali patologie è possibile, possono essere efficaci le cure da approntare proprio per i bambini di questa età. 482 sono stati i bambini che hanno usufruito e beneficiato di questo screening oculistico, grazie anche alla sensibilità degli oculisti che si sono resi disponibili a fare questo tipo di attività e anche dall'impresa Salmoiraghi in via Nokia ha messo a disposizione tutta la strumentazione, una strumentazione di altissimo valore che è stata portata in modo itinerante presso le scuole. Questi 482 bambini che sono stati scrinati ha evidenziato l'esigenza di ulteriori approfondimenti per 46 di questi bambini, perché questo quasi 10% di bambini che hanno evidenziato delle patologie da correggere, da attenzionare, è un dato abbastanza allarmante, questo ci dice il nostro presidente dei medici. Dottor Battistini, i ragazzi in età pediatrica generalmente non vengono sottoposti a visite oculistiche, e questo poi probabilmente può produrre delle serie conseguenze quando poi i bambini crescono. Invece questo vostro screening pone un punto fermo per risolvere determinati problemi. I genitori hanno finalmente capito anche con l'ausilio delle pediatri di libera scelta che i bambini vanno visti in età precoce, quindi diciamo che anche questo screening che noi abbiamo intrapreso serve alla popolazione per far capire che è una cosa importante e che quindi confidiamo che sia stato un esempio anche per i genitori per portare i bambini a fare le visite oculistiche. Quindi lo screening fatto in età precoce riesce a risolvere determinati problemi, non solo la miopia? Beh, certamente, se ci sono dei difetti refrattivi importanti come un'ipermetropia elevata, un'amiopia elevata, gli astigmatismi, sono tutti problemi che prima si prescrivono gli occhiali al bambino e meglio è, nel senso che se il difetto per dire è monolaterale si rischia che un occhio si sviluppi naturalmente mentre che quell'altro rimane un pochino indietro ed ecco che si sviluppa l'ambliopia. Quindi ecco, correggere i principali difetti rifrattivi in età precoce è fondamentale anche per la prevenzione dell'occhio pigro.